6 minuti di diretta facebook quindi per il fine settimana siete a posto se riguarda tra l'altro la diretta facebook ha il bello potete diciamo apprezzare anche se seguite i nostri due dice premier che molto spesso ne fanno tantissime ha il bello che se vi piace la potete tranquillamente rivedere quando esatto io per esempio negli anni 80 90 facevo cassette solo di una canzone perché non fissa no l'ultima poi sono arrivati le cose digitali è stata dei branva 3000 drink in lay avevo 90 minuti mamma mia che pezzo quel singolo hi my name is stereo mike lo dice anche franco 126 a san siro san siro franco 126 12 e 47 non ero il solo aver fatto cassette con un'unica canzone sono arrivati diversi messaggi mi scrivono oggi ha detto 3 agosto no ho detto era il 2 agosto un'apertura ma l'ultimo messaggio con colpello ritardo mi parla del calendario il nostro ascoltatore dice io avevo fatto una cassetta solo di gipsy woman e beh luca da napoli luca io ti voglio mangiare perché l'estate del 1991 era questa ricordi i tuori giovanissimi festeggiavo il passaggio dalla prima alla seconda media pensa che i baffini di seta da giovane messicano se eri scuro no tu sei biondo che andavano tolti